Martedì 16 novembre 2021, un cordiale saluto a tutti voi, carissimi amici, radioascoltatori, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi via Cavor 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani bellunesi. Tendiamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti nelle prime pagine, incominciamo con la prima pagina del Corriere delle Alpi, ecco come si apre l'edizione di oggi. La prima notizia è riferita all'Olimpia di 2026, Milano-Cortina, giochi persi 30 mesi, durissima accusa di Malagò, presidente del CONI sull'Agenzia per le Infrastrutture e la politica che la tiene ferma al palo. L'approfondimento lo troveremo a pagina 29. Turismo bianco, sì del garante all'app dello sci e ora datici le linee guida. Belluno, il CAI in pallina all'elicottero taxi per i discesisti, esibizionismo. Crisi in Valbelluna, ACC, pressing parlamentare ma Giorgetti rinvia il vertice. Il 22 c'è un tavolo con i sindacati ma solo in teleconferenza. Non ci stiamo, manifesteremo davanti alla sede delle mise. E ancora Belluno, faccia a faccia con i ladri, gli ori in corsi in cortile. San Martino, con brivido per una donna 57enne di Mussoi, domenica sera si è infatti imbattuta in due sconosciuti. Livina a Longo, a Davidino, strada chiusa da tre anni, è protesta. Prima vaia, poi lavori per l'esbosco. La strada di Davidino è chiusa da tre anni e sale la protesta dei proprietari delle case. L'approfondimento di Soratroi a pagina 27. E la foto di copertina riguarda le contestazioni Novax anche dal letto d'ospedale e boom di contagi. L'ondata picchia il incomelico. Meglio intubati che vaccinati nell'ospedale di Padova, trincea della quarta ondata Covid. I medici si trovano ora a contrastare un doppio nemico, il virus e il negazionismo. In provincia di Belluno gli ospedali reggono bene, i ricoveri sono limitati. Ma il contagio cresce a un ritmo molto più alto della media nazionale, spinto all'insù dei numeri dei paesi del Comerico. L'approfondimento di Zanetti lo troveremo da pagina 4 a pagina 7. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso all'edizione del Gazzettino. Come sempre cominciamo con l'edizione nazionale per poi proseguire con quella riferita alla provincia di Belluno. Ecco come si apre il Gazzettino. Notizia in primo piano riferita sempre all'emergenza Covid-19. In questo caso la campagna vaccinazione Veneto, terza dose agli over 40. Via libera alle prenotazioni sale il conto del Covid, 1,3 miliardi di euro. Il presidente Zaia, addizionale IRPEF, ad ora non la valutiamo. Foto di copertina, treviso la decisione dell'ordine contro il medico sindaco radiato Smuski, capo popolo Novax. Riccardo Smuski, medico sindaco e paladino della Galassia, no Vax. E ancora dalla prima pagina del Gazzettino, deruba la madre di un malato licenziata Padova, l'operatrice dell'area pediatrica segnalata dalla vittima. Abbiamo anche un richiamo per quanto riguarda l'edizione bellunese del Gazzettino. Val Belluna raggira un'invalida falso amante condannato. Adentriamoci quindi all'interno di questa edizione del Gazzettino, breve panoramica delle notizie di carattere nazionale e internazionale, in questo caso del nord-est. Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, se il Friuli chiude lockdown solo per i Novax e rischiano di pagare i danni. Il governatore preme sul governo per adottare restrizioni su un modello austriaco. La zona gialla potrebbe scattare da lunedì. I commercianti chiederemo risarcimenti per gli incassi persi, Fipe e Ascom pronte a un'azione collettiva per ottenere i danni dagli organizzatori delle merce di protesta. E sempre dal nord-est, Zaia, presidente della regione Veneto, tra due settimane 100 intubati negli ospedali. Terza dose, acceleriamo le proiezioni del Veneto raggiunti due parametri su tre per la zona gialla. Nei prossimi giorni si potrà fissare l'iniezione non appena scaduto il termine dei sei mesi. Questi numeri, 17 milioni di tamponi effettuati dall'inizio dell'emergenza, 7,3 molecolari e 9,9 rapidi. 712 i contagi rilevati nelle ultime 24 ore su 31.660 test e tasso di positività pari al 2,24%. 381 i ricoverati Covid negli ospedali, 317 in area non critica e 64 in terapia intensiva. 1.600 i degenti che, secondo i modelli, ci sarebbero in assenza di vaccino. Il conto sanitario sale a 1,3 miliardi. L'assessore regionale alla sanità, Lanzarini, il governo ci dia 513 milioni. Giovedì incontro, regioni, Parlamento. Palù, chiusure piuttosto è meglio immunizzare di più. Green Pass solo con vaccino. Il presidente di Haifa, il 29 novembre, EMA deciderà se autorizzare Pfizer da 5 a 11 anni e noi ci adegueremo. Troverete un'intervista appunto a Palù. Passiamo a pagina 5. L'ordine Radia Smuski, il sindaco medico Novax, concluso con l'atto più duro al procedimento disciplinare. Estromesso dall'albo di Treviso, il presidente Guarini disinformazione allarmistica, ma per ora potrà esercitare. Politica è leader allo stesso tavolo per presentare a Draghi le correzioni alla manovra. Gli incontri dopo una prima scrematura degli emendamenti affidata al Parlamento. Ma il negoziato è in salita a braccio di ferro su come usare gli 8 miliardi di tagli fiscali. Si parla anche di maturità in questa edizione del Gazzettino. Maturità ha scritto addio, gli studenti a bianchi senza tema è meglio. Potrebbe saltare la prova di italiano, il ministero scioglierà la riserva a fine mese. I ragazzi venerdì saranno in piazza, tornare al passato sarebbe una beffa. Caso Fincantieri, la procura, sfruttamento e corruzione. Siamo in Veneto, a Venezia, a Marghera. Il PM ha chiuso gli accertamenti in vista del rinvio a giudizio. 31 gli indagati, 3 denunciati, 15 dipendenti dell'azienda. Soldi e regali dalle imprese subalpaltatrici. Andiamo avanti con le notizie che riguardano il mondo. A Londra, quattro arresti dopo l'attacco all'ospedale. Allerta terrorismo alta. Il terrorista che si è fatto esplodere è il 32enne Emad Al-Svelman. Il vero obiettivo erano i reduci del Remembrance Day. Scoperto un covo. Il taxista eroe che ha evitato la strage. Era strano, così l'ho chiuso in auto. E in questo scatto, perché si sta guardando da Facebook o YouTube, l'esplosione dei taxi in cui si trovava l'attentatore bloccato nell'auto dal coraggioso tassista David Perry che vediamo in questo scatto. Ma passiamo all'edizione del Gazzettino di Belluno. Andentriamoci immediatamente al suo interno con pagina 2. La notizia principale riguarda la prossima stagione invernale. Virus, le questioni aperte. Sole piste, solo sciatori vaccinati. Dobbiamo aprire ad ogni costo la proposta della presidente nazionale ANEF Valeria Ghezzi di copiare il modello austriaco condivisa dal referente Veneto. Il presidente Marco Grigoletto. Non possiamo permetterci di perdere un'altra stagione. Comunali, 10% di dipendenti Novax. Anche Palazzo Rosso fa i conti con meno personale a causa del Green Pass. L'assessore, riusciamo a compensare un aiuto, si avrà con la digitalizzazione. La giunta ieri ha varato il maxipiano del personale. 32 nuove assunzioni in due anni, notizia che riguarda il capoluogo bellunese. Ma ancora dal bellunese, come erico, c'è il picco dei contagi. Anche la quarta ondata parte da lì. Contagi ovviamente riferiti all'emergenza Covid-19. Ma i nuovi casi positivi ora sono in aumento un po' in tutta la provincia. 6 i ricoveri per Covid. Per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, ecco la mappa dei contagi in provincia di Belluno. In incidenza negli ultimi sette giorni, come si può vedere, i comuni con il maggior numero di casi sono proprio quelli della zona comelico, ovvero comelico San Pietro di Cadore e Santo Stefano di Cadore. Siamo a pagina 5 del Gazzettino di Belluno. Il PD bellunese sarà ai vertici regionali. Il candidato alla segreteria DEM del Veneto, Andrea Martella, ha annunciato ieri nella sede cittadina la sua vice, Monica Lotto. Giusto rappresentare la vostra area e le zone interne con le questioni urgenti da mettere all'interno dell'agenda. Fatti di cronaca giudiziaria, ubriaco, rovina la fiera e si scaglia sugli agenti. Un vento tenne dato in escandescenza alle casette, domenica alle 17, denunciato. Il fatto è accaduto in occasione della fiera di San Martino che appunto si è svolta domenica scorso nel capoluogo. Notizia di spalle, Belluno crolla in classifica ma noi non ci stupiamo. Il passaggio dalla diciannovesima alla quarantunesima posizione per l'opposizione era ovvio. Franco Gidoni, reti idriche e spopolamento nel Merino, Paolo Gamba, cittadini solo. Notizia che riguarda la classifica che è stata pubblicata da Italia Oggi per la qualità della vita nelle città italiane, lo avete sentito, Belluno ahimè, è passata dalla diciannovesima alla quarantunovesima posizione. Feltre Hauser, 27 mila chilometri di solidarietà in pandemia, il trasporto offerto a chi ne ha bisogno dal circolo di Feltre non si è mai fermato. In meno di due anni, segnati dal Covid, 1300 e chiamate, viaggi anche nel lockdown. E sempre da Feltre ritorna la festa degli alberi, Pra del Moro, piante dedicate, l'appuntamento è per giovedì attorno all'anello del paglio. Monopattini fuori controllo, girano di notte, non si vedono, crescono le segnalazioni dei cittadini, il sindaco si rivolge alle forze dell'ordine. In questo caso la notizia ci porta nel comune di Cuerovas. E da Cuerovas a Santa Giustina, notizia di spalle, asfaltature, pulizie, nuove condotte, ora vie più sicure, tanti cantieri ultimati o in corso nel comune di Santa Giustina. Borgo Valbelluna a Cicci, il ministro dica se chiuderà, i sindacati dicono basta, i videocollegamenti si organizzano per andare a Roma al tavolo del Mise in agenda il 22 novembre. Intanto Giorgetti sposta al 25 l'incontro che era previsto per oggi con i parlamentari bellunesi, ieri anche il tavolo Ideal. Slitta al 25 novembre l'incontro che avrebbe dovuto svolgersi oggi tra i parlamentari bellunesi e il ministro allo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti sui casi a Cicci idea standard. In gioco 750 posti di lavoro, una data che per a Cicci lascia tutti basiti, primo perché il 20 novembre scade il termine per la seconda asta e se non ci saranno potenziali acquirenti il destino annunciato è il fallimento, secondo perché il confronto con i parlamentari bellunesi rischia di arrivare quanto ormai i buoi sono scappati, visto che il tavolo di lavoro probabilmente conclusivo su A.C.C. è convocato tre giorni prima, ovvero lunedì 22 novembre. Ponte nelle Alpi, Arsia organizza intorno al Porcello per conoscere le vecchie tradizioni. Ma continuiamo con la Gordino, Canale d'Agordo, Luciani Beato cambia anche l'ingresso al paese. posizionate ieri alle porte dell'abitato, due totem dedicati a Giovanni Paolo I. L'iniziativa si aggiunge a quelle avviate da amministrazione comunale e museo. Vediamo appunto il lavoro di posizionamento dei due totem con la scritta Ioannius Paolus I. Rocca Pietro e ponte prefabbricato sul Rudalberg raggiunto l'obiettivo della messa in sicurezza prima delle nevicate. San Nicolò di Comelico, una sede per l'ambulatorio, ma adesso manca il medico. La struttura adeguata trovata per la Guardia Medica per ora resta vuota. I sindaco Iannese, i tre professionisti, prima in servizio, sono rientrati in ospedale. E adesso passiamo all'edizione del Corriere delle Alpi ed entriamoci immediatamente al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima la troviamo a pagina 7, notizia riferita alla quarta ondata Covid-19 che picchia in Comelico ma pochi ricoveri. Il contagio in provincia corre molto più veloce della media. 30.000 belunesi non vaccinati. Un terzo è irriducibile ed è con l'incidenza settimanale nel belunese. Mappa che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino che ben mette in evidenza che attualmente le zone più colpite dall'incidenza settimanale da Covid-19 sono appunto i comuni del Comelico. Ma ancora dalla provincia di Belluno passiamo a pagina 16 l'approfondimento anche del Corriere delle Alpi riferito al futuro di ACC. ACC Giorgetti prende ancora tempo rinviato all'incontro con i parlamentari. Il 22, tavolo con i sindacati ma solo in teleconferenza. Non ci stiamo, manifesteremo davanti alla sede del Mise. L'articolo affirma di Francesco Dalmas. Non ci sarà oggi l'incontro fra i parlamentari bellunesi e il ministro della Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. L'appuntamento è stato rinviato al 25 di novembre. È stato invece confermato per il 22 l'appuntamento con il sindacato ma in videoconferenza. E a Venezia Idle, aziende e sindacati limano le virgole trattativa fino a tardasera. È davvero estremante la ricerca di un accordo tra l'Idle Standard e i sindacati. Il confronto è incominciato ieri. Nel primo pomeriggio in sede regionale è presente dunque l'assessore Elena Donazzan con la partecipazione anche di Confindustria. Pagina 17 del Corriere delle Alpi. Martella proposta alla lotto. Sarai la mia vice segretaria. Il candidato alla guida del partito in Veneto vuole la bellunesa a suo fianco. Come donna, con me, donne in prima linea, sottolinea. Premiato il lavoro. Replica lei. Foto di copertina. Un nido sulla spalla dell'angelo di Belluno. L'angelo è il nido. Il drone offre sempre punti di vista molto particolari anche in una giornata uggiosa ed è con una certa emozione che domenica scorsa Alessandra De Vecchi ha scoperto un nido sorretto dall'angelo che svetta sul campanile settecentesco della cattedrale di San Martino. È stata una vera emozione. Tutti i bellunesi amano l'angelo. Vederlo così da vicino non è facile. E questa volta ho trovato anche il nido che, vista le dimensioni, dovrebbe essere di una cicogna. Ed ecco appunto il nido che è sorretto in questo caso dall'angelo che si trova posizionato in cima alla cupola del campanile dello splendido campanile di Iuvara del Duomo di Belluno. Pagina 18. Palazzo Rosso. Il comune assume 32 persone. Nel 2022 le uscite saranno 33. E ancora dal capoluogo, a Levigo, ciclopista e strisce illuminate. Al progetto si aggiunge un nuovo attraversamento. L'assessore Giannone, l'intervento inizierà la prossima primavera. Economia e spopolamento affossano la qualità della vita nella provincia dolomitica. La classifica d'Italia oggi evidenzia i problemi del bellunese. Notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. E adesso anche il Corriere delle Alpi fa un approfondimento riferito alla prossima stagione invernale in provincia di Belluno. App per Ski e Green Pass si dà il garante della privacy. Controlli automatici e senza archiviare i dati. Via libera al sistema del Dolomiti, ma gli impiantisti premono per le linee guida sull'utilizzo delle funivie. Pagina 20. Accaduto alla Veneggia. Recensione condita da offese. Pagherai danni alla barista. Il commento su TripAdvisor. Lamenta scarsa cortesia. Insulta la donna. La questione finisce in tribunale. Gli avvocati trovano un accordo sul risarcimento. E ancora interrogatorio di garanzia Ravenna. Il medico scagione i Novax bellunesi. Nessun soldo per i Green Pass falsi. Altre notizie brevi. La Lega no alla vendita degli edifici della ex Piave. Notizia che ci porta sempre nel capoluogo. E ancora bancarotta. Crack NNN. A febbraio c'è l'udienza per il CDA. Passiamo a pagina 21. Trova i ladri davanti a casa. E li insegue nel cortile. Rompevano già le luci. Li vede dalla strada. Quei due sconosciuti giovani e agili. Ma quando con l'ombrello disfano la lampada esterna. Si rende conto che forse tanto onesti non sono. E attacca a urlare e a correre loro dietro. Al punto da metterli in fuga. San Martino con brivido. Per una donna di 57enne di Mussoi. Dominica Sera si è infatti imbattuta. In due sconosciuti che ritiene stessero per entrare nella sua abitazione in via Cairoli. Notizia dal Feltrino. Siamo a pagina 22 del Corriere delle Alpi. In arrivo il nuovo bar. Al Palaghiaccio si amplia l'offerta per il pubblico. Bortoluzzi soddisfatti di questi primi mesi di gestione. Tante iniziative in calendario nel periodo della festività. Si realizza la piazzola di osservazione del riparo della Valla Rosna. Il Muvara è più vicino. Sovramonte. La piattaforma avrà un binocolo e pannelli informativi. Il sindaco della Torre sarà una tappa delle visite al Museo Multimediale. Ancora dal Feltrino. La maratona di lettura ritorna in mezzo alla gente. Galimberti, ospite. Sabato prende il via oggi alle 20.30. La rassegna dedicata al filosofo Laura Artusio. Apre le serate al Canossiano. Venerdì con Ezio Mauro. Sempre da Feltrino. L'ultimo saluto a Cappellaro. Zio, sono orgoglioso di te. Amici, imprenditori, dipendenti della Serbosco e istituzioni. In tanti ai funerali del 77enne. Toccante il messaggio letto dalla nipote Cristina. Arrivata dalla Germania per salutare lo zio. Donaldo Giazzon. Persona illuminata. Non cercava la vetrina. Bensì la concretezza. E ancora il collega Bastianello. Ha reso l'impresa attore sociale e parte attiva della comunità. Santa Giustina, laboratorio di cucina con gli chef dell'ENAIP dedicato ai non vedenti. E ancora dal basso Feltrino, alto Trevigiano, servizi si trasforma in S.P.A. La MON, un aiuto di 5.000 euro all'istituto comprensivo. E sempre da la MON, asfaltatore in partenza nelle strade del centro. Passiamo a pagina 25. Conso Spirolo, Massarda sistemata all'asilo. Adesso si pensa al parcheggio. Rifatto il pavimento e compartimentate gli spazi del sottotetto per poterlo usare. Pronto al progetto definitivo degli stali di sosta sul lato opposto all'attuale accesso. Sedico la corteggia per i soldi, ma sposa un'altra condannato per truffa. Borgo Valbelluna, puzza di bruciato al centro Incon. Intervengono i vigili del fuoco. Ancora limana. Venerdì debutta in aula la nuova giunta de Zanette. Sedico, contributi, centri estivi in arrivo alle famiglie. Per maggiori informazioni, visitate il sito del comune di Sedico. A pagina 26 troviamo notizie riferite a Ponte nelle Alpi. Mercato agricolo locale, scelti i primi produttori per gli stand del giovedì. Chiusi i termini per le candidature. Si parte alla fine del mese. L'assessore dal borgo, importante iniziare, poi crescerà. Valdizoldo, frana di Solagnot, semafori intelligenti, anti-incolonamenti. Alpago, giovani e famiglie al via gli incontri per crescere meglio. Ancora dall'Alpago, Tiruccino nelle sedi UE, aiuto per le candidature. Ponte nelle Alpi, due serate di confronto sulla tutela dei minori. Continuiamo con la Gordino. Livina a Longo, strada impraticabile da tre anni. A Davedino monta la protesta. Prima vaia, poi lavori che non si concludono. L'arenatore Paoletti. Non sappiamo più che cosa fare. Ed ecco la situazione della strada di Davedino. Ormai chiusa, lo avete sentito dai titoli, da tre anni. Anc sempre dall'Agordino. Gosaldo, strada Provenzione 3, Valimperina, ancora chiusa a fasce orarie per due settimane. La Fontana sul Brui, annerita sabato. Pugliamola tutti assieme. Notizia in questo caso che ci porta ad Agordo. Stefano Parissenti, chiama raccolta i paesani. Di buona volontà, ho provato con il Bruskin e funziona. Facciamola tornare bianca e viva il mondo del volontariato. Siamo a pagina 28 del Corriere delle Alpi. Cortina, il CAI Veneto dice no alle alischi. È ostentazione di pochi. Il presidente regionale Renato Frigo contesta l'utilizzo dell'elicottero per salire in quota. Non siamo nel Canada dai territori sconfinati. Sulle Dolomiti si vada con le proprie forze. Vigo di Cadore parte il crowfunding per completare il bivacco al forte di Monte Tudaio. È stato posato il tetto ricorrendo al trasporto in volo dei materiali necessari. All'arrivo della primavera si riprenderanno i lavori. Ed ecco appunto in questo scatto, per chi si sta guardando da Facebook o YouTube, l'arrivo di un carico di materiale elitrasportato al cantiere del bivacco sul Monte Tudaio. E adesso la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi. Opere olimpiche. Malagò attacca due anni e mezzo al vento. Il presidente del CONI contesta il tempo perso per il mancato avvio dell'Agenzia Infrastrutture. Partirà finalmente il 18 novembre l'Agenzia Infrastrutture che ha il compito di realizzare le opere olimpiche. Oppure nella riunione del 18 verrà semplicemente presentato lo statuto. Cortina ha perso la pazienza da tempo. Allo stesso modo rischia di perdere il Veneto. Ma a sbottare ieri è stato lo stesso presidente del CONI, Giovanni Malagò. Forse ci sono ancora i tempi per riqualificare la pista di Bob. Ma per la variante di Longarone e la circonvalazione di Cortina opere da oltre mezzo miliardo. I tempi ci sono solo per partire con i cantieri, non per concluderli. Lo pensano anche se non lo dicono sia il sindaco Giampietro Ghedina che il primo cittadino di Longarone, Roberto Padrin. Santo Stefano di Cadore, cane denutrito e maltrattato. La padrona farà volontariato. E ancora, salute mentale e assistenza. Famiglie dei pazienti preoccupate. Se siamo nel comune di Pieve di Cadore, nessuna comunità per i giovani manca al lavoro di squadra di psichiatria e psicoterapeuti. Passiamo adesso alla rubrica Cultura e Società. Siamo a pagina 31 del Corriere delle Alpi. Come riflettere sul valore della distanza nell'universo del virus e dell'isolamento. E riprendono da oggi, dopo 18 anni di pausa, i corsi, forse intendono 18 mesi di pausa, i corsi di alta cultura della Fondazione Cini, voluti da Vittore Branca. Cultura e Società, Pieraccioni è la figlia della pirografia made in Borgo Valbelluna. L'attore toscano, conquistato dall'opera di Alex Zanghellini, il ritratto gli è piaciuto. Mi farà pubblicità sul web. Ed ecco appunto lo scatto di Leonardo Pieraccioni nella pirografia di Zanghellini. Notizia di spalle. Stasera alle 20.30 il gruppo archeologico festeggia i 25 anni in municipio a Calalzo. E andiamo avanti con lo sport bellunese. Calcio Serie D della vecchia, da fiducia alla Dolomiti e smorza il caso legato a Polizotto. Il vicepresidente. Non dobbiamo vincere il campionato, i risultati sono in linea con gli obiettivi. Paolo ha lasciato per motivi personali e di esse Marco Conte prosegue a seguire il mercato. Calcio a 5. Canottieri esce indenne dalla gara con l'alta marca. Sempre calcio a 5, in questo caso Under 17. Canottieri, polveri bagnate e ancora 0 punti. E sempre dal calcio, verso la super sfida di promozione, Fanta e Fioribarpe in eccellenza. Pensiamo a fare un buon derby. Il presidente è al settimo cielo per il primato solitario, ma resta con i piedi per terra. Dobbiamo ancora affrontare le più forti, partendo dall'imana. Cavarzano. Tennis al via la Coppa Comitato. Al sedico la sfida con il Cortina. Basket Under 17. Il Feltre ci ha preso gusto, secondo a vittoria di fila, compia gente top scorer. Basket Under 15. Il Feltre lotta alla pari, ma alla fine vince l'Alfiere. Ancora sport bellunese. Parliamo di volley a tre. Alex Paganin, l'uomo in più della Darolda. Il mio papà Mario sarebbe fiero di me. Ginnastica artistica. Juventus alpina. Tre volte a segno nella gara veneta Silver di Padova. Golf. Paolo Raffa. Terzo a Roma. Al trofeo del castello. Palamano Under 17. I giovani della Firex Belluno debuttano con una vittoria. Ancora sport bellunese. Nuovo giovanile all'International Swim Meeting. Simone Pettenoe Nerviani sul podio più alto a Bolzano. E adesso una notizia che riguarda invece la nazionale italiana. Calcio. Qualificazioni mondiali azzurri irriconoscibili a Windsor Park. Pari deludente al Belfast Italia agli spareggi. La Svizzera vince 4-0 con la Bulgaria e strappa subito il biglietto per il Qatar. Adesso torna l'incubo eliminazione. 0-0 il risultato finale tra Irlanda del Nord e Italia. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Cielo molto nuvoloso coperto salvo qualche schiarita più che altro sul bellunese. Dal pomeriggio parziali riduzioni della visibilità a bassa quota specie sull'entroterra durante le ore più fredde. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluna. Vi ricordo che torneremo in replica via streaming questa sera alle 20 e domani mattina a Luna ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellonesi nel Mondo.